Una ragazza fanese di 24 anni è finita al pronto soccorso di Fano non in gravi condizioni a causa di un incidente stradale. La donna questa mattina alla guida di una Fiat Punto poco dopo le 10 viaggiamo in direzione di Lucrezia quando vicino a Ponte Murello di Cartoceto per ragioni ancora al vaglio della polizia locale dopo una curva ad esse ha perso il controllo dell'auto andando ad invadere la corsia opposta schiantandosi contro il guardrail. L'urto è stato violentissimo al punto da far uscire dalla sede il motore dell'autovettura che si è polverizzato in mille pezzi e ad innescato anche una carambola che l'ha portata dopo diversi testa cosa ad urtare frontalmente una Citroen che procedeva in direzione Fano con a burdo due residenti di Lucrezia un uomo e una donna rimasti miracolosamente illesi. I pezzi della Punto grigia si sono sparpagliati per una cinquantina di metri per tutta la carreggiata finendo alcune parti del motore anche nel fossato al lato della strada. Ora l'infortunistica di Fano sta cercando anche attraverso la testimonianza diretta della stessa giovane di ricostruire la dinamica del sinistro non avendo riscontrato sull'asfalto nessun segno di frenata. Gli occupanti della Citroen accortisi che la Punto era totalmente fuori controllo hanno tentato di evitarla spostandosi verso il margine destro ma il guardraele gli ha impedito ogni via di fuga. Gli airbag della Punto invece hanno probabilmente evitato conseguenze più gravi alla giovane conducente che è uscita da sola dalla vettura ed ha aspettato l'arrivo del 118 che l'ha portata per accertamenti al Santa Croce. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza l'auto dato che era alimentata a GPL. Le auto poi non marcianti sono state rimosse con il carroattrezzi e il manto stradale ripulito dai liquidi persi dalle due auto. Due le pattuglie della Municipale sul posto che oltre ai rilievi ha gestito il traffico a senso alternato per tutta la durata delle operazioni. Grazie!